Si è svolta presso la Chiesa del Cristo di Pordenone la locale festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Alla Santa Messa, celebrata dal Vescovo di Pordenone Monsignor Giuseppe Pellegrini, hanno partecipato, oltre ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria a sezione di Pordenone, le diverse autorità civili e militari. Oggi la Polizia Penitenziaria festeggia il proprio patrono. Qual è la condizione nel carcere di Pordenone? È una condizione, possiamo dire, migliorata rispetto all'anno scorso. La nuova normativa sulle camere di sicurezza, per intenderci, ha consentito un contenimento delle presenze, per cui posso dire di essere, insomma, moderatamente soddisfatto. La popolazione detenuta è aumentata negli ultimi anni in maniera rilevante. Pensare a una pena moderna soltanto sul modello detentivo è ormai anacronistico. L'esempio classico, se io ho imbrattato un muro, è inutile che venga punito con due mesi di reclusione, che non farò mai. Penso sia più utile una pena per equivalente, cioè quella di far pulire il muro da chi l'ha imbrattato, una sanzione amministrativa. Sindaco, il problema delle carceri a Pordenone esiste ed è concreto? Io non capisco perché questo non sia dichiarato anche a livello nazionale un'emergenza, come in effetti è, e nonostante l'abilità delle persone che gestiscono il carcere, che cercano ogni modo per rendere più sopportabile, accettabile la presenza delle persone nelle nostre carceri, il problema resta tale. Non è possibile che dopo vent'anni di discussione ci possa essere un'ipotesi di ulteriore ritardo o di cambio di programmi e di idee da parte del Ministero Centrale.